Il valore di un ritratto, di un ritratto unico, irripetibile, soprattutto vostro. E' con orgoglio che continuo e che vi parlo della campagna che ho iniziato la settimana scorsa sul ritratto in bianco e nero, opera unica, irripetibile, dove cercheremo di cogliere l'essenza, l'anima delle persone. Vi parlo di questa cosa perché per me è fondamentale e importantissimo avere almeno una volta nella vita un ritratto con la persona a cui vuoi bene, le persone che ami, con gli effetti, un ritratto personale, un ritratto di famiglie, un ritratto dei tuoi figli, di te con il tuo cane, con il tuo gatto. E' importante fermare l'attimo unico e irripetibile. E' importante stamparlo perché fotografia vuol dire immagini stampate, se no rimarrebbe un'immagine e basta. Il valore è proprio sulla stampa. In questo caso è un valore straordinario perché la stampa è una stampa in fine art su carta cotone, molto bella anche da toccare. È un progetto sulle persone, sui sentimenti e sui ricordi e sul valore dei ricordi. Quindi io vi aspetto domenica 15 e domenica 22 dicembre, sia il mattino che il pomeriggio, due ore la mattina e tra il pomeriggio. Se volete prendere l'appuntamento basta inviarmi una mail, vi metto i dati poi in descrizione e anche su Whatsapp, sul mio cellulare. Il costo è contenuto, è alla portata di tutti direi. Quindi siamo a 40 euro per il mini shooting e la scelta della foto post produzione e stampa in A4. che è esattamente questa. Poi si può scegliere se portare a casa con sé la stampa o se scegliere anche la cornice in legno naturale con la carta bianca o nera e il passepartout in pH neutro. Molto bello. È una stampa che resta nel tempo. Poi c'è la versione in 30x40 e la procedura è assolutamente identica. Mini shooting, tre scatti, la scelta di una foto, post produzione in bianco e nero, stampa immediata in fine art su carta cotone, formato 30x40 e 55 euro. Quindi i due formati sono 20x30 o 30x40, a 40 euro il 20x30 e a 55 euro il 30x40. Rinnovo l'invito a tutti. Venite a trovarmi nel mio nuovo studio in Via Garibaldi 27 all'Unigo. Anche senza prenotare se c'è posto, facciamo due chiacchiere e eseguiamo gli scatti e dopodiché si sceglie, si post produce e si va in stampa. E portate a casa una cosa importante, una cosa unica, una cosa per sempre, che è il vostro ritratto, l'essenza di voi. Credo di aver detto tutto. Un abbraccio a tutti, buone vacanze, buon Natale e buona luce. Buona luce. Grazie a tutti.